quale sarà quello vero? questo? o questo? questo? che cos'è leo questa cosa che è vicino a te? mi sembra uno slenderman con la faccia nera oh mamma mia! leonardo si sta fingendo manichino vediamo se qualcuno se ne accorge non è vero? sta arrivando una bimba che chissà se se ne accorgerà non me la riprendo di viso perché c'è la privacy però se ne è scappata non si è accorta che un manichino vero fosse il signore lì lo guarda, sospetta è ancora lì, guarda guarda come lo guardano questi lo guardano si chiederanno, è vero quel bambino? pure bravo a far spingersi i manichino lui, lui, sospetta qualcosa guardate, si sta chiedendo se è vero guardate, guardate guardate, guardate guardate ragazzi, guardate penso che si siede anche lui pensa che si devono sedere tutti lì ragazzi guardate, guardate, guardate ecco, è ancora lì, guardate guardate, guardate guardate, guardate guardate, guardate chissà se la signora se ne accorde guardate non si è accorta di niente guardate, guardate la gente passa guarda, 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 guarda la signora lì dietro passo è ancora lì guardate io sono nascosta qui dietro guardate, guardate 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 guardate, guardate arriva, arriva, arriva qualcuno vediamo se se ne accorgono guardate, guardate se ne accorda ci sta avvicinando una bambina la signora il signore, il signore se ne sta guarda come lo guarda pensa che un bambino è vinto il signore come ti guarda torna, torna Leo davvero pensavo anche eri vinto davvero ti guardava strano c'è un altro che lo guarda guarda, guarda, guarda come lo guarda guardate guardate ok, che sta ritornando indietro non è convinto mica guarda, guarda come lo guarda torna perché il bambino il bambino lo guarda finza che finza che fitto io non posso farmi vedere altrimenti se ne accorgono vai vai saluta dai ragazzi ciao saluta ciao 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 ciao